Unire separati non andiamo da nessuna parte e la dittatura non vuole che ci uniamo perché adesso se il coprifuoco scende alle 21 la gente chiaramente non riuscirà, quelli che possono venire non riusciranno a venire, già non ci vogliono fare a sembrare, quindi voi vedete insomma qual è lo scenario che si sta delineando. Allora, io nell'andare alla manifestazione naturalmente ieri ho preso una multa perché non indossavo la muserola, ovviamente è una multa legittima quindi faremo il solito ricorso. Allora, il mio messaggio per le forze dell'ordine è questo, noi siamo tutti quanti il popolo e siete pure voi il popolo, voi non vi dovete scusare quando mi fate le multe perché io lo so che voi siete comandati. Quando parlo con voi in privato, voi siete degli esseri umani, ma se io cammino senza la muserola via Roma davanti a tutti quanti, io lo so che voi me la dovete fare la multa perché sennò voi passare un guai, non potete fare finta di non vedere. Non vi dovete scusare con me, dovete capire che quello che io sto facendo è anche per voi e ne dovete parlare con i vostri amici e i vostri parenti perché noi non ci possiamo permettere di andare avanti così. Perché quando scoppierà la guerra civile io starò dietro, ma altri che stanno molto incazzati, molto disperati, a voi verranno a menare e non è che vi vengono a menare quando siete 200, vi vengono a menare quando siete a casa voi soli. E questo è il problema. Ho fatto la manifestazione, alla fine della manifestazione, questo è il secondo verbale, primo verbale, secondo verbale. Allora, poliziotti, falchi, dirigenti che stavate sotto la regione, soprattutto una in particolare. Voi siete il rango degli obbligati, se non eseguite gli ordini andate nel rango dei disperati perché perdete il lavoro e io lo so. La dittatura che cosa vuole? Obbligati contro disperati. Voi state eseguendo degli ordini illegittimi e lo sapete, che io quando parlo con voi in privato, voi lo sapete. Guardate che cosa sta succedendo in città, in questa atmosfera oppressiva, oppressiva di militarizzazione, per cui tu non hai più voglia di uscire, questa non è vita. Voi state togliendo la vita ai cittadini in maniera illegittima. Vi ricordo che voi avete giurato sulla Costituzione. Quindi voi state applicando degli ordini illegittimi contro la Costituzione, perché non volete passare dal rango degli obbligati al rango dei disperati. Ma quando l'economia collasserà, anche voi sarete costretti a prendere delle scelte difficili. Alla dirigente ieri sera, io non ce l'ho con te, perché io lo so che tu sei comandata, però tu devi riflettere su questa cosa. Perché quando tu e i tuoi ragazzi vedrete a prendere le mazzate, qualcun altro dei vostri ragazzi al nord gli verrà ordinato di sparare. Qualcun altro, su, in dittatura, gli verrà ordinato di sparare addosso a voi e la tensione salirà. Quindi che cosa faranno? A voi di Napoli vi manderanno tipo a Venezia e a quelli di Milano li manderanno in Sicilia e a Palermo. Che cosa farete? Sparerete sui cittadini? State sparando praticamente sui parenti e gli amici dei vostri colleghi? Ovole uno solo. Non dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare questo. Ok? Noi dobbiamo fare questo. Quindi non esistono le categorie. Allora, io ieri c'ero parlato con un ristoratore di Santa Lucia. Come sta andando? È un mese che non incassiamo niente. Eravamo dieci, adesso siamo io, cioè il titolare e il pizzaiolo. Allora, tutti quelli che non stanno uscendo e non vanno a manifestare, come pensi che si riprenderà l'economia? Come potranno mantenere quegli altri nove? Noi ci dobbiamo unire tutti quanti. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Prima di dirvi chi è, pensateci un po' se lo riconoscete. Lo riconoscete? Allora, quelli della mia generazione che hanno studiato, lo sanno lui chi è. Perché noi siamo vissuti praticamente a pane e falcone, pane e borsellino, pane e impastato, pane e siani, pane e puglisi. Questo è Salvo. Guardatelo bene. Soprattutto voi delle forze dell'ordine. Salvo non è un eroe perché era un carabiniere. Salvo era un eroe perché ha capito che cos'è l'amore. E l'amore vince sulla psicopatia di quelli che dicono che tu sei necessario, tu non sei necessario, vuoi morire. Ma veramente voi che siete necessari, pensate che non vi prenderanno mai e vi diranno che adesso non siete necessari più, quando a governanti c'è uno psicopatico. E non sto parlando del presidente Conte, sto parlando dei suoi datori di lavoro. Salvo ha capito che cos'è l'amore. Lui si è sacrificato per amore. E ha salvato 22 persone con la sua vita. Queste persone ci guardano. A tutti quanti. Pure a voi delle forze dell'ordine. Se combattiamo noi per voi, dovete combattere pure voi per lui. Allora che cosa disse Salvo? Lui aveva fatto di tutto per dire che non sapeva che cosa era successo e che non era possibile provare che fosse un attentato. Per quei due tedeschi morti e due feriti, Salvo si è sacrificato e ha salvato 22 italiani. Era che erano stati rastrellati a caso. Lui non era neanche il comandante della casella, il vice comandante. E il comandante in quel momento non c'era. C'è un unico modo per vincere la psicomaglia. E' l'amore. Un gesto d'amore che vince la paura persino della morte. Se è così forte, come può non vincere la paura della galera o di una multa? Allora, voi che state a casa, e non scendetemi per aiutare con la vostra presenza le persone che sono in difficoltà. Le persone che già non arrivano a fin un mese, che già chissà da quanto tempo la loro azienda è condannata. E' come se voi siete stati deumanizzati. Non siete più umani, non provate più sentimenti, come se non discorresse più il sangue nelle vene. E parlo principalmente ai miei parenti e ai miei amici. Non solo a quelli che non conosco. Allora sta piovendo. Sta diluviando. C'è un gattino abbandonato su marciattile che sta piangendo. Che cosa fa qui che va di dritto? Queste siete le persone che siete. Siete queste persone qua. Salvo che cosa doveva fare. Che cosa doveva fare. Doveva dire la cosa, non mi riguarda. Io non so niente, non c'entro niente. Non è un eroe perché è un carabiniere. È un eroe perché amava. È un eroe perché ha dato tutto. La vita, sacrificio estremo per l'amore. Se voi non scendete alle manifestazioni, se voi ve ne fregate degli altri, noi saremo sempre disuniti. E non potremmo mai batterli questi psicopatici che ci mettono uno contro l'altro. E dicono, tu servi, tu non servi. Tu puoi vivere, tu puoi morire. Ricordatevi dei nostri eroi. Gente che ha fatto l'estremo sacrificio per l'amore degli altri. Non perché era dovere, per l'amore. Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte. Dio è con me e io non ho paura. L'Italia ricorda salvo d'acquisto, giovane sotto ufficiale lacunitano, che si sacrificò il 23 settembre 1943 per salvare dalla rappresaglia tedesca 22 ostaggi. Accusati ingiustamente di attentato all'esercito di Hitler per una bomba scoppiata accidentalmente nella caserma della Guardia di Finanza, dove i nazisti erano acquartierati. Quando comprese che i tedeschi non avrebbero rilasciato gli ostaggi, da questo si autoaccusò dell'esplosione e fu per questo malmenato e poi fucilato, mentre gridava, viva l'Italia. Il suo comportamento colpì le SS. Il vostro brigadiere, dissero, è morto da eroe, impassibile anche di fronte alla morte. Servo di Dio, medaglia d'oro al valor militare, è sepolto nella Basilica di Santa Chiara di Napoli.